La squadra dei vigili del fuoco del distaccamento dito al mezzo è stata attivata per un infortunio in una strada forestale a Chiaulis di Verzegnis. Giunti sul posto hanno trovato un trattore rovesciato in un ripido pendio con il conducente a terra vicino al mezzo. Hanno prestato i primi soccorsi all'infortunato, poi l'arrivo del personale sanitario hanno adagiato l'uomo sulla barella e dopo aver allestito un sistema di corde e ancoraggi lo hanno trasportato fino alla strada forestale dove è stato preso in carico dal personale sanitario. A questo punto il trasporto in elicottero all'ospedale di Udine dove l'uomo è giunto in codice giallo, per lui prognosi riservata, non è in pericolo di vita, indagano i carabinieri.